Speriamo di sbloccare a più presto questa situazione e il dottor Annone ci ha rassicurato che entro fine luglio il settore e quindi le varie sezioni saranno operative. La mancanza di un dirigente e avere un ufficio che non funziona per come deve funzionare crea disagi ai singoli cittadini, a noi tecnici ma soprattutto al mondo occupazionale che oggi è un momento di crisi e fondamentale. Abbiamo informato di altre problematiche che sono per esempio il vincolo a parcheggio che bisogna farlo da un segretario, grazie all'assessore precedente che ha istituito uno sportello front office e noi riusciamo ad avere in un'unica seduta un progetto approvato. Purtroppo dobbiamo aspettare a volte anche due mesi per avere un vincolo a parcheggio perché grazie alla disponibilità anche del segretario si possono fare anche al comune stesso e quindi la gente può risparmiare. Però a volte per impegni e per un accavallarsi di diverse situazioni è chiaro che i tempi si allungano e quindi una concessione che può essere rilasciata nell'arco di dieci giorni a volte viene rilasciata purtroppo dopo vari mesi. Il commissario ha parlato anche che ha attivato tutte le procedure per la revisione del piano regolatore, ha già incontrato i tecnici incaricati, l'università, il geologo, l'agronomo. Si sta predisponendo anche la VAS, questo elaborato di valutazione ambientale strategica che deve essere condiviso con la popolazione e con la cittadinanza e che è alla base della redazione del piano regolatore. Grazie